Fino a pochi mesi fa, al top nei sondaggi di gradimento dei politici in Germania, il ministro della difesa tedesco si ritrova adesso nei guai. Carl Theodor Zug Gutenberg avrebbe copiato ampi paragrafi della sua tesi di dottorato. Il sito Gutenplag ha messo in rete le parti incriminate del lavoro. Nel frattempo i socialdemocratici attaccano Gutenberg. Se dovesse perdere il suo dottorato, ha commentato il portavoce dell'SPD, il partito non lo riconoscerebbe più come ministro. Ha la possibilità di dire ok, ho fatto un errore, non ho presentato un lavoro propriamente accademico, ma in ogni caso avrà il problema di riconquistare la sua credibilità e di riconquistare la fiducia nei sondaggi. Il numero degli autori a quali il ministro, ribattezzato dal web, copia e incolla, ha attinto senza preoccuparsi di citarli, ha raggiunto quota 14. L'Università della Baviera ha chiesto a Gutenberg una spiegazione formale.